no io son morto minchia e sotto ci sono ancora i nemici ancora più forti no non morite tutti cazzo no no ma poi la cosa brutta è quando ti avvelenano diventi pure lentissimo niente son morto si il veleno è una cosa peggiore che abbiamo me la potuto mettere dentro minchia ho finito le vite cazzo e vabbè la cosa più bella è che puoi cambiare puoi cambiare punto di vista puoi cambiare personaggio ogni volta che muori cazzo in realtà avanti voglio vedere un altro po' di gioco nooo come cazzo hai fatto ad avvelenarmi? eh ci vuoi lo strafe? è un altro merba niente siete morti eh ma dai lo avete trovati magari minchia ma a me le non ce ne sono più piazzate una bomba vicino alla larva no no fuck si è portato un colpone in faccia oi delle statistiche io si vediamo si vediamo